Abbiamo parlato spesso del rapporto controverso fra guerra, informazione e verità. Quando scoppia un conflitto, l'informazione diventa parte integrante del conflitto e la verità evapora quasi istantaneamente. Due fatti di ieri, ovvero l'abbattimento di un aereo russo che forse trasportava prigionieri ucraini e una strage di civili in attesa di aiuti umanitari a Gaza, ci offre qualche tragico spunto per riflettere su questo. Parliamo anche della legge approvata in Senato per istituzionalizzare l'accordo Italia-Albania sui migranti. Io sono Andrea D'Innocenti, oggi il 26 gennaio 2024, e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! Abbiamo spesso raccontato del rapporto controverso, pericoloso, molto scivoloso fra conflitti, informazione e verità. E oggi, come vi dicevo, abbiamo di nuovo due notizie provenienti dai due conflitti principali, almeno dalla prospettiva dei giornali, quelli più mediatici, che ci portano nuovamente a riflettere su quanto sia complesso capire cosa stia succedendo all'interno di un conflitto. La prima notizia arriva dall'Ucraina e riguarda l'abbattimento di un velivolo russo da parte di, si presume, la contraerea ucraina, su cui non si capisce se viaggiavano prigionieri ucraini, armi russe o nessuna di queste due cose. Ve la riassumo da un articolo su Huffington Post, a firma di Edoardo Giribaldi. Quello che sappiamo per certo è che l'aereo militare russo Ilyushin-276 si è scantato nella regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina. Secondo la versione russa sarebbe stato appunto l'esercito ucraino ad aver abbattuto il velivolo e al suo interno ci sarebbero stati 74 passeggeri a bordo, fra i quali 65 soldati ucraini e 3 guardie e 6 membri dell'equipaggio di nazionalità russa. Leggo dall'articolo Il Cremlino attribuisce la responsabilità dello schianto a Kiev, definendolo a un atto terribile e affermando come gli ucraini abbiano ucciso i loro stessi prigionieri di guerra e che sia necessaria un'investigazione internazionale sui crimini compiuti dal regime di Zelensky. Sull'altro fronte, l'Ucraina non ha confermato di avere colpito l'aereo mobile militare e ha messo in discussione alcuni punti chiave della narrazione portata avanti dalla controparte russa, non suffragando ad esempio l'ipotesi secondo la quale a bordo di quel velivolo ci sarebbero stati prigionieri di guerra ucraini. Inizialmente i media ucraini hanno parlato di una tesi secondo cui sull'aereo ci sarebbero stati missili da guerra russi, tesi che però è stata successivamente smentita per mancanza di prove. Comunque l'unico punto in comune fra le due versioni risiede nell'appello per un'investigazione internazionale, però si tratta di un'ipotesi, sembra diciamo più di facciata che altro perché è abbastanza improbabile sia che avvenga e sia che produca qualcosa. Perché come ha affermato la stessa Associated Press, che è un'agenzia di stampa internazionale, in quella che mi è sembrata un po' un'ammissione di impotenza giornalistica di fronte a un conflitto, le speranze su un'investigazione dei registratori di volo che possa portare a chiarimenti sull'accaduto sono molto flebili. Gli incidenti mortali seguiti da rivendicazioni e controdenunce sono una caratteristica della guerra, usati come munizioni per infrangere la reputazione e influenzare l'opinione pubblica. Ecco, il fatto che questa sia la posizione ufficiale, il comunicato ufficiale di un'agenzia di stampa internazionale, è abbastanza esplicativo di quello che voglio trasmettervi. Ma quindi è impossibile capire com'è andata? Abbiamo qualche indizio? Possiamo avvicinarci alla verità oppure no? Allora, alcune cose le sappiamo in più rispetto a quelle che vi ho detto. Ad esempio, sappiamo che quel tipo di velivolo era già stato usato in precedenza per scambiare ostaggi e sappiamo che in effetti quello scambio era previsto. Ecco, quello è un altro dettaglio su cui entrambe le versioni concordano. Solo che per il ministro della difesa russo lo scambio era confermato e stava effettivamente avvenendo prima, appunto, cioè nel momento in cui è stato abbattuto l'aeroplano e l'Ucraina sapeva che era previsto l'atterraggio di un aereo con a bordo suoi connazionali nel campo aereo di Belgorod. Mentre, secondo l'intelligence ucraina, lo scambio era previsto ma non confermato e non sarebbe stato comunicato il metodo di trasporto dei prigionieri nel luogo predisposto e quindi l'aereo, secondo appunto la versione ucraina, non era presumibilmente quello con i passeggeri o se lo era, lo era in violazione di un accordo preso. Quindi il governo russo di fatto accusa quell'ucraino di terrorismo mentre l'intelligence ucraina accusa la Russia di voler destabilizzare la situazione in Ucraina con delle fake news e quindi indebolire il suo supporto internazionale e anche il suo supporto interno. Poi ci sono altri aspetti, ad esempio apprendo, leggendo sempre l'articolo di Half Post che da qualche mese si sono intensificati gli scambi di prigionieri fra due paesi che si erano fermati per un po' ma che a gennaio hanno ripreso e proprio a inizio gennaio c'è stato lo scambio più grande dall'inizio del conflitto di prigionieri fra Russia e Ucraina che perlomeno, insomma, in genere è un segnale leggermente distensivo. Questi scambi precedenti sono stati comunque sempre mediati da altri paesi come la Turchia o gli Emirati Arabi Uniti, a differenza di questo che era uno scambio diretto e sono stati definiti, quelli precedenti, molto complicati con le due parti sempre intente a negoziare meticolosamente ogni dettaglio. Fra l'altro questa cosa degli scambi, scambi di prigionieri, può sembrare in qualche modo marginale ma in realtà è un elemento molto sensibile soprattutto per il governo di Zelensky, il governo ucraino insomma perché Zelensky in prima persona si è più volte esposto sulla sua ferma volontà di riportare il, insomma, di negoziare i rilasci e riportare i soldati ucraini a casa alcune famiglie che hanno atteso per mesi poche informazioni sui propri cari in prigionia hanno organizzato grosse proteste di piazza a Kiev e quindi è una questione molto sentita in Ucraina su cui si gioca anche un po' l'accordo politico e il consenso nei confronti dell'attuale governo. Così come poi c'è un ultimo aspetto interessante, rilevante di questa notizia ovvero che apparentemente è un dettaglio ma in realtà nasconde qualcosa di importante ovvero come è stato abbattuto il velivolo, con cosa è stato abbattuto perché sempre nella ricostruzione russa, se effettivamente è stato l'esercito ucraino ad abbattere il velivolo sembra plausibile che sia stato abbattuto usando i famosi missili Patriot di fabbricazione americana che sarebbero gli unici avere una gittata sufficiente per appunto abbattere un velivolo oltre confine e però c'è un accordo, se vi ricordate, per cui le armi che vengono rifornite dall'Occidente non devono essere usate per scopi offensivi ma solo per scopi difensivi quindi in questo caso l'esercito ucraino potrebbe aver violato uno degli assunti di base che stanno alla base, scusate la ripetizione, dell'invio di armi ovvero che siano per scopo difensivo. Ora, vi starete forse chiedendo perché i giornali e tu stesso, ovvero io stesso sto dando tutte queste informazioni su una notizia di cui non sappiamo nemmeno come sia andata quale sia la versione reale ecco, è così rilevante questa cosa per capire cosa sta succedendo in Ucraina? In realtà un po' sì, o perlomeno sì e no nel senso che è vero, non sappiamo come sono andate realmente le cose e in questo il giornalismo di guerra, soprattutto quello moderno, quello cosiddetto embedded come si fa adesso, cioè sotto la protezione di uno specifico esercito non aiuta perché è molto parziale, inevitabilmente parziale direi quindi non sappiamo se sia stata la Russia a orchestrare tutto per indebolire Zelensky e fargli assumere una cattiva luce a livello sia interno che verso l'opinione internazionale oppure se l'abbia fatto il governo ucraino forse dicono alcune fonti di intelligenza americane per una sorta di regolazione di conti interna alla struttura di potere Ucraina stessa non vi sto qui a spiegare i dettagli anche perché sono per lo più speculazioni però credo che descrivere questo tipo di notizie come vengono riportate dai due fronti sia descrivere il conflitto perché è conflitto, è conflitto informativo ma è un conflitto su cui i governi di guerra investono milioni e milioni di euro e puntano tanto quanto puntano sulle armi cioè le informazioni, le informazioni di cui nutriamo le persone la mente delle persone spostano le masse condizionano gli immaginari, condizionano milioni di persone spostano addirittura gli equilibri internazionali e sono armi potentissime ricordate ad esempio la strage di Buccia compiuta dall'esercito russo quanto ha avuto un effetto anche nel convincere i governi ma anche prima le opinioni pubbliche occidentali a magari inviare armi o a comunque a supportare l'esercito ucraino questo ovviamente non vuol dire ad esempio che la strage di Buccia sia una fake news anzi ci sono state diverse ricostruzioni da parte del Guardian e del New York Times molto meticolose che sembrano confermare effettivamente che le cose siano andate così come sembrava inizialmente ovvero che sia l'esercito russo ad aver ucciso un sacco di civili in quell'occasione ma per dirvi che appunto l'informazione è un'arma potentissima e così come c'è uno scontro sul campo fatto di missili e armi c'è uno scontro informativo fatto di notizie e accaparramento della verità che non per forza però vuol dire che una cosa sia effettivamente accaduta come viene raccontata da una delle due parti per cui il mio consiglio è prendere coscienza del fatto che spesso, quasi sempre nessuna delle due versioni è la versione reale e che la verità non si sa esattamente dove sta potrebbe stare nel mezzo potrebbe stare più vicino da un lato o più vicino all'altro ma spesso non lo sappiamo se non a distanza di mesi e quindi di leggere le informazioni legate a un conflitto soprattutto se in qualche misura è un conflitto che ci coinvolge più o meno direttamente prenderle con le pinze cercare di analizzarle di attivare il pensiero critico e di chiedervi di chiedersi non tanto qual è la versione vera perché appunto spesso è impossibile saperlo ma cosa ci dice questa notizia e come è stata riportata sul conflitto in corso credo che se facciamo un'analisi del genere possiamo trovare delle informazioni interessanti che magari non sono su quello che è successo in quel caso specifico ma su cosa sta succedendo a livello di magari guerra dell'informazione l'altra questione in qualche modo simile arriva invece dal conflitto a Gaza qui nella giornata di ieri il portavoce del ministro della sanità di Gaza a Sharaf Al-Qudra ha detto che l'esercito di Tel Aviv l'esercito israeliano ha sparato contro la folla di civili accalcati per ricevere aiuti umanitari a Gaza e il bilancio sarebbe pesante al momento si parla di 20 morti e 170 feriti anche se secondo Al-Qudra il numero di decessi sarebbe destinato a salire vertiginosamente perché molti dei feriti trasportati all'ospedale al Shifa si trovano in condizioni molto gravi ma è la struttura è senza forniture mediche e con pochi dottori operativi e quindi si teme che il numero possa salire la notizia è stata diffusa sul canale Telegram del portavoce di Gaza inizialmente e poi riportata da Al Jazeera e ripresa da i giornali di quasi tutto il mondo si legge che l'attacco è avvenuto in piazza a Kuwait nel quartiere di Zeytun a est di Gaza City in quel luogo si erano radunate centinaia di persone affamate pronte a ricevere gli aiuti umanitari internazionali in una zona della striscia quella settentrionale che è la più difficile da raggiungere per i convogli umanitari che entrano dai valichi di Rafah e Kerem Shalom che sono nell'estremo sud della striscia al confine con l'Egitto il portavoce della protezione civile locale Mahmoud Bassal ha aggiunto che oltre a confermare i fatti ha aggiunto che soccorrere i feriti è stato molto complicato dato che gli operatori umanitari sanitari sono stati ostacolati dai militari israeliani che quindi non avrebbero solo aperto il fuoco ma anche ostacolato i soccorsi ora qui siamo a un caso un po' diverso da quello di prima nel senso che ci sono un po' meno dubbi sull'accaduto vi spiego che ci sono delle versioni che sono appunto quelli di chi stava sul campo fra cui il portavoce della protezione civile e il portavoce un portavoce del governo di Hamas quindi più vicini all'area palestinese sicuramente ma non c'è una controversione né una smentita per adesso dell'esercito israeliano che ha solo annunciato che sta esaminando le accuse mosse dal ministero guidato da Hamas e farà sapere però non ha smentito non ha confermato certo è che se fosse confermata questa cosa si tratterebbe di un crimine di guerra molto molto grave però è interessante si fa per dire passatemi il termine è una roba tremenda una roba atroce ovviamente però diciamo dal punto di vista dell'informazione se ci togliamo se ci mettiamo il cappello neutro di chi osserva l'informazione giornalistica notare l'estrema cautela con cui anche gli inviati di guerra raccontano l'accaduto e questo non solo per questioni geopolitiche o di alleanze fra stati per cui l'occidente è di base più alleato di Israele che dei palestinesi e quindi spesso c'è un approccio diverso nel raccontare il conflitto israelo-palestinese rispetto ad esempio a raccontare il conflitto fra Russia e Ucraina ma anche perché come vi dicevo prima in questo momento l'unico modo per raccontare il conflitto in Palestina a Gaza è essere giornalisti embedded con l'esercito israeliano ed è una condizione che pone il giornalista in una posizione non proprio equa nel poter giudicare quello che accade perché significa che si è costantemente scortati dall'esercito ovunque si vada e che si va solo in alcuni luoghi e non in altri e che si firma un protocollo un accordo con l'esercito che in genere supervisiona le notizie che escono comprensibilmente nell'interesse dell'esercito per tutelare segreti militari nomi e cognomi degli interessati e così via ma il confine fra questo e il controllo dell'informazione è molto labile è molto sottile quindi ecco questo è un altro aspetto molto importante da tenere in considerazione quando parliamo di inviati di guerra non vedono il conflitto a 360 gradi ne vedono solo un pezzetto ed è filtrato spesso da uno dei due eserciti comunque al volo su Gaza l'altra grossa novità è che aprendo dal post questa settimana l'esercito israeliano ha ammesso per la prima volta di star creando una zona cuscinetta larga circa un chilometro nella striscia di Gaza lungo tutto il confine con Israele demolendo tutti gli edifici e le strutture civili che si trovano al suo interno ed è un progetto di cui politici e funzionari israeliani parlavano da tempo definendolo come necessario per la sicurezza di Israele ma che finora non era mai stato annunciato ufficialmente la zona cuscinetto leggo sarà larga circa un chilometro e correrà lungo tutto il confine della striscia di Gaza restringendo ovviamente il territorio della striscia non quello di Israele e sarà un'area disabitata senza edifici a ridosso delle barriere di confine che possa essere sorvegliata giorno e notte militarmente e possa essere usata per impedire nuovi attacchi via terra perché i palestinesi anche i civili non potranno entrare al suo interno sarà una sorta di zona franca controllata però solo da un lato ovviamente si tratta di un progetto però molto criticato e molto controverso perché il problema principale è che poiché la striscia di Gaza è popolata in maniera densissima considerate che aveva perché adesso molte delle persone sono scappate ma la densità è tipo il doppio di quella di Roma per intenderci del comune di Roma ed è un'area molto piccola l'area in cui dovrebbe trovarsi questa zona cuscinetto è piena di edifici campi agricoli e tante altre strutture e l'esercito le sta demolendo completamente fra l'altro è si tratta di una striscia larga un chilometro e l'intera striscia di Gaza è larga nella zona di massima estensione 12 chilometri in quelle intermedie di 6-7 chilometri quindi è una grossa fetta che viene eliminata ed è già dal novembre che l'esercito israeliano sta demolendo e radendo al suolo tutto ciò che trova quindi è un progetto approvato fin dall'inizio dell'invasione quasi e come ha detto un soldato al Wall Street Journal è stato tutto raso al suolo erano soprattutto terreni agricoli ora è una zona militare una vera terra di nessuno anni fa ricordo che rimasi molto colpito quando un operatore del turismo responsabile che intervistammo ci raccontò dell'enorme impatto delle navi da crociera che era persino più alto peggiore di quello degli aeroplani un argomento di cui si parla onestamente molto poco ed è molto sottovalutato ma è invece sentito laddove le navi da crociera transitano più frequentemente e dove effettivamente rappresentano un problema per vari punti di vista ad esempio nel porto di La Spezia ed è proprio per questo motivo che la nostra Emanola Sabidussi ha deciso di dedicare a questo tema la seconda inchiesta a puntate del nostro portale Ligure Ligure che cambia quindi parliamo di inquinamento e navi da crociera dopo che nel primo episodio ci ha dato alcune informazioni generali su quanto inquinano appunto queste navi in questa seconda puntata che esce oggi ci spiega come queste enormi imbarcazioni impattino sulla salute umana e non solo e quanto sia importante monitorare costantemente questo impatto leggo le sostanze più inquinanti emesse dalle navi da crociera sono principalmente gli ossidi di azoto di cui i più comuni sono i vari biossidi di azoto ma cosa sono? come spiegato dall'ultima pubblicazione dell'Ecoistituto di Reggio Emilia a Genova gli ossidi di azoto ad elevate concentrazioni sono composti irritanti per le mucose e l'apparato respiratorio in molti studi sugli effetti dell'inquinamento atmosferico la concentrazione degli ossidi di azoto espressa come NO2 è stata associata a un incremento della mortalità sia per tutte le cause non violente sia per le cause respiratorie e non si tratta solo di ossidi di azoto ma ad aggiungersi a questi ci sono anche le polveri sottili che sono sempre emesse dalle navi da crociera e da qualche anno sappiamo anche che più il diametro di queste particelle è inferiore più sono pericolose per la salute umana e l'articolo spiega poi bene come ci siano tante di queste nanoparticelle che vengono emesse dalle navi da crociera l'articolo poi spiega anche come ci siano in atto diverse iniziative di monitoraggio alcune anche da parte dei cittadini molto interessanti se volete leggerlo tutto e recuperare magari anche la prima puntata lo trovate su Liguria che cambia ma anche sulla pagina la segna stampa di Italia che cambia punto org sotto fonti articoli andiamo velocissimi sull'ultima notizia ieri la camera ha dato il via libera all'accordo fra Italia e Albania sui migranti il provvedimento passa adesso quindi al senato con l'obiettivo secondo il governo di una rapida approvazione probabilmente anche prima che la corte costituzionale albanese si pronunci sulla legittimità dell'accordo probabilmente la prossima settimana perché se ricordate l'Albania ha al momento bloccato l'accordo per una questione di possibile incostituzionalità l'accordo in breve prevede che l'Italia costruisca dei centri per le persone in attesa dello status di rifugiati o del rimpatrio sul suolo albanese l'approvazione della legge alla camera ha comunque da subito causato durissime critiche delle opposizioni e delle ONG perché a parte l'impianto del disegno di legge in generale che era già stato criticato ma comunque non sono state accolte nessuna delle misure richieste dalla società civile per renderla un po' più morbida un po' più umana nei confronti delle persone migranti tipo la possibilità di organizzazioni non governative di essere presenti in questi centri in Albania o una relazione al Parlamento ogni sei mesi sulle attività di questi centri una garanzia sul fatto che al di là dell'Adriatico non verranno portati persone vulnerabili tipo minori donne o persone che arrivano dal lager libici e dunque vittime di torturi abusi e violenze di ogni genere ecco nessuna di queste garanzie o di queste modifiche migliorative è stata inserita nel testo di legge che è stata approvata così come era stata presentata ed è passata appunto al Senato adesso si attende il voto del Senato che presunibilmente ricalcherà quello della Camera ma comunque anche su questo ci aggiorniamo oggi è venerdì e quindi è anche la giornata in cui esce la nuova puntata di non mi rassegno sardegna la nostra rassegna stampa regionale commentata da Alessandro spedicati della nostra redazione sarda per cui passo la parola proprio ad Alessandro che in un vocale di circa un minuto ci racconta le notizie principali di cui parla nella rassegna di oggi a te Alessandro ciao Andrea ciao a tutti quindicesima puntata di io non mi rassegno sardegna che inizierà parlando di elezioni regionali perché sono stati definiti finalmente i nomi dei candidati con il deposito delle liste poi parleremo di donazione di organi perché l'isola si conferma conferma la sua proverbiale generosità visti i numeri sull'argomento e poi dobbiamo dedicare assolutamente abbiamo dedicato doverosamente un ampio spazio alla notizia più che della settimana più che del mese forse la notizia dell'anno in Sardegna ovvero la dipartita improvvisa in attesa di Gigi Riva eroe nazionale quando parliamo soprattutto di Nazione Sarda legame con l'isola che va abbondantemente al di là delle sue gesta calcistiche però poi ovviamente andremo avanti parlando sia di quanto uscito nel portale Sardegna che cambia nell'ultima settimana e sia come facciamo di solito con gli eventi che ci saranno nel weekend questa volta legati soprattutto alla giornata della memoria un saluto a voi un abbraccio e ci sentiamo prestissimo va bene detto ciò io direi che noi ci possiamo salutare qui io vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata di io non mi rassegno sempre a partire dall'alle 8 sul canale youtube e sulle principali platform di podcasting nonché sulla pagina assegnastampa del cambia.org voi mi raccomando state bene fate i bravi e ricordatevi che chi si rassegna è perduto grazie a tutti